Ti vedo l'amica Ok ragazzi ci salutiamo perchè io Perchè io se caldo questa cosa insomma me credirete Vabbè che non stava l'acqua Non si fa l'acqua vedere, sono resistenti Ora hanno testate fino a 100kmh contro un muro Eh? Lanciate fino a 100kmh contro un muro Se rompe solo il case quello radioplastico Vabbè molto un po' per se ne fanno altro E' dritta? E' muo' vedi, esci intanto fuori Ah tanto tu c'hai questi cazzi Mi sembra tanto illuminare bene Ciola 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 Come si spegne con l'altra volta? Ok Sei pronto? Ah tu Sei va te Ok 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 Ah tu Be賺 Ah Um Ah Ma Ah Ciò Ma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.